Prossima partita contro il Crownley, terzi in classifica, intanto andiamo a vedere qua i marcatori, Vicorelli a 21 gol, uno più di Nikos, Rossi a 12, Minieri a 11, che trio, il trio delle meraviglie, assist Vicorelli a 11, Rossi, Minieri, Carriero e Devi a 7, Rossi sordini a 6, Robson a 5, ed in violate Tomassuolo a 10, perfetto, perfetto, andiamo a fare questa, facciamo la conferenza stampa, se ci riusciamo facciamo pure esordi i due giovani, la vittoria nell'ultima partita influirà sul morale dei prossimi avversari? Certo, il morale è un aspetto fondamentale, vinceremo noi, dobbiamo vincere assolutamente, sono a 55 punti, noi a più 10 dallo Stevenage, sembra che tutto, stiamo a 5 marzo, avremmo dovuto vincere il campionato, a meno che non succederebbe veramente l'impossibile, andiamo a giocarla, la prossima la doveva saltare, cioè questa la doveva saltare i guidi, va bene, ma è buona, oddio, buona qui la torsione, meno la mira, si ci ha provato, ora fa meglio la prossima volta, la tua parte è un'altra parte, ma è buona qui, va bene, 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 Questi li stupriamo ragazzi Non penso di sbagliare sentivo che la vigila non è un po' che accendere il progetto della squadra di casa invece per loro Bel gioco e super tassi Sì piano che di un promozione non è un miraggio Non lo è più Ma sempre più concreto col passare nelle giornate Devono tenere duro ancora per poco se vogliono centrare un traguardo Che solo fino a qualche mese fa sembrava fuori dalla loro portata There we go Ahia sta Ahia Bravissimo Marchietto Galsetti Ah ma lo so perso Mamma mia Daniele Bravo Givu Esci portiere Mamma mia che ha preso Ah Givu Genissimo Grazie a tutti 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 SANTOS Grazie a tutti 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 Grazie a tutti